La storia siamo noi, nessuno si senta offeso, siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. Voterai alle elezioni europee? Sì, penso che voterò. Che temi dovrebbe trattare una buona campagna elettorale per le europee a tuo giudizio? Allora, credo che la campagna elettorale non sia mai finita, siamo sempre stati in campagna elettorale sia per quanto riguarda le parlamentari che quelle europee. Sicuramente il tema del lavoro a livello europeo andrebbe trattato molto di più, soprattutto uno spazio ai giovani che si dice tanto, però poi effettivamente i tassi sono sempre più bassi. La questione della difesa in Europa, anche difesa militare? La difesa, io sono contro qualsiasi forma di guerra, però la difesa in un certo senso qualche cosa ci vuole. La questione della difesa europea, anche militare per esempio, è un tema... E quello è un tema scottante. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere... La campagna elettorale che si sta facendo per le europee la convince o i temi andrebbero trattati in un altro modo? Ancora approfondito, dico la verità, mi dispiace. La difesa europea è un tema importante, la difesa militare? Sì, molto importante, quello sicuramente. Noi abitiamo a Lisbona, in Portogallo, c'è stata una grande svolta a destra e probabilmente anche nell'europea ci sarà una svolta a destra. Assolutamente sì. A foto che lei sente? Tutti, mi sento tutti, compresa questo per le europee. L'idea di fare o meno un esercito militare europeo? È difficile riuscire a trovare un accordo europeo, non solo sulla difesa, su tutto, è sempre stata un'idea globale che poi abbiamo troppe differenze interne per riuscire a portare avanti. Non credo. Ah, proprio no? No. E perché? Perché ho perso l'interesse. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta esploso. Abbiamo voglia di cambiamento, quindi cercheremo di fare del nostro meglio. Non mi interessa, sono lontano da qualunque ideologia, da qualunque forma di, poter dare qualunque forma di gradimento ai politici attuali. La questione della difesa dell'Europa, difesa militare, la... Non mi interessa. Sì, andrò a votare sicuramente, sì sì. Sicuramente per i giovani dovrebbero informarsi di più, insomma, sì. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze. Buongiorno, buongiorno cari telespettatori. Buon sabato. E insomma, possiamo anche già dirci buona Pasqua. Allora, un po' di voci a proposito delle elezioni europee che arrivano a grandi passi. Mancano esattamente 70 giorni. Siamo già in piena campagna elettorale. In Italia c'è un toto candidati. Si mettono appunto le liste. Soffiano, come sapete, sempre più impetuosi eventi di guerra. E restano ancora molto alte le preoccupazioni per la congiuntura, per il quadro economico. In Italia dalle urne dell'8 e del 9 di giugno usciranno soprattutto i nuovi rapporti di forza tra i partiti, nelle coalizioni e tra le coalizioni. E di sfide e scenari, diciamo, che l'Europa deve affrontare si parla molto poco. Certo, si parla molto di difesa europea, difesa comune europea. Sembra che il Green Deal si sia un po' anacquato in questi ultimi tempi. Però poi ci sono altre grandi questioni. C'è l'allargamento dell'Europa. C'è tutta la partita che riguarda le riforme istituzionali, contrattati che appaiono ormai obsoleti. C'è il tema delle diseguaglianze sociali, della disoccupazione, della denatalità, delle questioni migratorie. Vado a memoria, c'è ancora tutta la parte che riguarda l'unione fiscale bancaria. E poi altre questioni che non sono secondarie, le materie critiche, l'autonomia strategica e tecnologica. Insomma, è una lunga lista. Oggi di tutto questo proviamo a parlarne con molti ospiti, diversi tra loro ma di grande competenza. Intanto saluto collegato con noi da Benevento il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, leader di Noi di Centro. Bentornato. Grazie, grazie molto a voi. Buona giornata. Buon sabato. Grazie. Saluto Davide Giacalone, direttore editoriale della Regione. Buongiorno, grazie per l'invito. Davide, do il bentornato a Francesco Giubilei di Nazione Futura. Buongiorno, grazie. Ciao Davide, saluto e ringrazio Ginevra Bompiani, scrittrice e quasi certamente candidata nella lista di Michele Santoro, Pace, Terra e Dignità. Saluto e ringrazio il professor Gianluca Passarelli. Grazie a lei per l'invito. Buon sabato. Grazie, docente di scienza della politica all'Università della Sapienza di Roma e che ha da poco pubblicato. Lo possiamo far vedere anche la copertina perché è in pieno tema con la nostra discussione. Stati Uniti d'Europa, un'epopea a 12 stelle per l'editore Egea. Allora, Clemente Mastella, comincio insomma da chi nella sua vita non solo ha una lunga carriera parlamentare e di governo, ma insomma di elezioni ne ha viste molte. C'è grande attesa per queste elezioni europee che peraltro però non hanno mai molto nel ciclo storico scaldato i cuori, diciamo, degli elettori. Però, insomma, a giugno ci sono molte partite aperte, sono cambiate moltissime cose. Che cosa si aspetta da queste elezioni, Clemente Mastella? Ma guardi, ha ragione lei, ci sono molte partite aperte e riguardano sia il contesto europeo, ha ricordato lei una serie di segmenti che bisogna trattare, su cui discutere, su cui interviene come Parlamento Europeo Nuovo. E dall'altro il riverbero ci sarà anche in Italia, per quanto riguarda alleanze, coalizioni, semicoalizioni, per quanto attiene al maggioranzi governo, alla possibilità di un recupero di coalizione e opposizione, che oggi non c'è assolutamente. E questo da soddisfazione e possibilità ulteriore a chi oggi guida, diciamo, le gesta della governanza italiana. Quindi, che mi aspetto? Beh, mi aspetto, insomma, che ci sia una partecipazione più incidente, però vedo che c'è una forma di frustrazione, non scaldi i cuori. Le elezioni in genere, quindi a maggior ragione, c'è una forma di istintiva diffidenza rispetto all'Europa. O magari, se c'è partecipazione, c'è una istintiva diffidenza rispetto a quanto l'Europa fa. Ogni paese europeo si lamenta per quello l'Europa mette in piedi. Stati Uniti e Europa, ho visto il libro del professore, dovrebbe essere questo, ma non c'è una difesa comune. Arranchiamo da questo punto di vista. E pensare che, nonostante la guerra che c'è in Europa, non si immagina una difesa comune vera. Cioè, ognuno avanza a qualcosa, ma Grot dice la sua, altri dicono la loro, però in realtà non avanza neppure. Avendo a portata di territorio di confine, è un devastante conflitto, che insomma crea problemi. Sul piano della pace, sul piano dell'economia, sul piano degli equilibri. Insomma, c'è una forma di incapacità. Non so se i reggitori di governo attuali... Aspetti, aspetti, Mastella, c'è un problema sul collegamento, ma abbiamo colto quasi tutto. Adesso lo facciamo mettere a posto. Vado da Davide Giacalone. Davide, quello che ti voglio chiedere è questo. Un po' il riferimento lo faceva adesso Mastella. Un grande tema è quello della difesa comune europea, alla luce anche di tutto quello che sta succedendo intorno a noi. Mentre, fino a qualche tempo fa, uno dei temi che avrebbe dominato la campagna elettorale, in realtà sembrava quello del Green Deal, della transizione ecologica ed energetica. E in poco tempo è cambiato tutto. Però poi ci sono, come dicevo all'inizio, altri temi che, perlomeno in Italia, non so come va negli altri paesi, sono totalmente ignorati, non esistono nel dibattito politico elettorale. Ma questo dipende anche molto dal fatto che il dibattito politico elettorale complice la stampa, complice chi lo racconta, complice la scena. È sempre una questione del rapporto fra i leader, la composizione dei partiti, gli equilibri. Quello che oggi è la partita delle elezioni europee non ha quasi nulla a che vedere con questo, nel senso che la partita vera è quella della difesa comune e dell'attacco alle democrazie europee che abbiamo al confine dell'Europa. Abbiamo comunque al confine dell'Europa. E quella roba lì crea una faglia di divisione di chi ritiene che l'Europa debba avere una difesa comune. È certamente una scelta di fermare l'imperialismo espansionistico di Putin. E chi invece pensa che in fondo sarebbe meglio un appeasement con Putin, ma in fondo che cosa vuole? Vuole un po' di terra ucraina? Si è già visto con i sudeti all'epoca dell'accordo, con la conferenza di Monaco. Il tema è questo. Questa faglia, questa divisione passa all'interno della destra europea, anche della destra italiana per la decisione, passa all'interno della sinistra, passa un po' meno, ma insomma passa anche dal centro. Ma quella è la vera scelta. Ora teniamo presente che bisogna regolarsi secondo ideali e secondo convenienze. Le seconde convenienze noi europei tutti assieme spendiamo ogni anno in difesa più di quanto non spenda la Russia. Credo tre volte circa è stato stimato. Non proprio tre volte, ma insomma un po' più del doppio. Però voglio dire, non otteniamo la stessa efficacia, perché è diviso per 27. Quando abbiamo cominciato giustamente ad aiutare... Non so fare una battuta, non otteniamo la stessa efficacia come dicevi, guardando l'aritmetica, diviso per 27. Anche perché noi siamo democrazia e quella è una dittatura. Non se no, non solo, ma noi soprattutto non abbiamo mai usato, la Nato non ha mai usato le armi per allargare un confine. Mai. Questo appartiene alle dittature, agli imperialismo di Putin. Mai si è usato e mai sarà usato per allargare un confine. Però attenzione, quando abbiamo cominciato giustamente ad aiutare gli ucraini anche con le armi, abbiamo mandato il nostro materiale, l'hanno dovuto fare i campi di smistamento perché le cartucce di uno non potevano andare con i cannoni dell'altro. E questa è una disfunzione. Sono altri grandi temi che riguardano la difesa comunale. Questo però, attenzione, è un problema industriale. Cioè significa che la scelta che ci sta dietro dell'industria comune europea e ciò che toccherà ai politici di ciascun paese sarà la capacità di vedere chi sono i campioni europei, voglio dire, noi qualche cosa nella cantieristica abbiamo da dire, ma anche in altri settori, e chi sono invece quelli che soccombono dal punto di vista della competizione con alcuni campioni. E quella sarà un giorno in cui gli anti-europeisti, i facutori del cedimento, diranno si perdono i posti di lavoro nella fabbrica. Ma tu hai fatto bene a sottolineare questo. Quello sarà il punto vero. Perché non è solo una competizione tra Stati interna, al Club Europa, ma anche tra le industrie dei diversi paesi. Hai perfettamente ragione. Va di pubblicità, ripartiamo con tutti gli altri nostri ospiti. E intanto mettiamo un elemento, come dire, che attrae ancora molto, che è quello appunto del toto candidature. Dopo la pubblicità. Più insistente di un tormentone estivo, forse meno divertente, eccoci alla questione delle candidature al Parlamento europeo. Chi sarà lista, chi sarà capolista, chi non ci sarà, cosa faranno i big? Succederà di tutto. Con il metto. Giorgia Meloni si dice pronta alla campagna elettorale, ma temporeggia. Potrebbe invece scendere in campo la sorella Arianna. Quello che riguarda la mia candidatura a tema, che appassiona voi, ma meno me. Come ho detto, lo deciderò alla fine di questo percorso. Sul fronte opposto prende tempo anche Elislein, nonostante il pressing della segreteria Demper che corra l'8 e 9 giugno. Nel dibattito pesa l'opinione di chi legge la candidatura di un big come un inganno. È già accaduto in passato se raccolgono voti, ma poi se rinuncia al seggio per gli impegni in Italia. Non ci sarò in quelle liste e mi auguro che gli altri leader non ci siano. Il primo a sfilare si è stato il leader del Movimento 5 Stelle, che ha invece annunciato via social la candidatura di Giuseppe Antoci. Candidiamo un campione dell'antimafia, ha detto. Mentre capolista al sud sarà Pasquale Tridico, ex presidente dell'Inps. Anche Salvini ha deciso di non correre, ha proposto di candidare il controverso generale Vannacci, mentre un altro leader del centro-destra, proprio come Meloni, dice forse no, forse sì, vediamo. I miei compagni di partito non me lo chiedono, è un fatto noto. Vedremo che cosa sarà utile per Forza Italia. Insomma, la gara a cui si è aggiunto anche Michele Santoro con la lista pace, terra e dignità è più che aperta. L'obiettivo è arrivare al minimo in doppia cifra. Bomba! Il percorso che ci porterà l'esigenza europea deve essere una, come dire, una novità esplosiva in termini positivi. Bomba! Per la prima volta dopo tanto tempo io farò un passo in avanti e sarò candidato in tutte e cinque le circoscrizioni. Cioè, noi lavoreremo sul serio al doppio degli altri. Dichiarazioni a parte, è il momento di comporre le liste. Abbiamo chiesto a Lucia Annunziata di guidare la lista del Partito Democratico al sud. Bomba! Il numero due, quindi, ho il piacere di annunciare che sarà uno dei più bravi sindaci d'Italia che ha contribuito con la sua amministrazione alla rinascita della sua città. Sto parlando di Antonio De Caro. Moratti con Forza Italia, Mimmo Lucano con Alleanza Verdi e Sinistra sono ormai certezze. Per il resto si aggiusta, si discute. Le europee non sono soltanto un tormentone, ma anche un rompicapo. Oh, come vedete, si intrecciano poi le questioni perché siamo partiti, diciamo, con l'acceleratore giustamente sulla difesa europea, sulle grandi sfide che attendono il vecchio continente. E poi ci sono ovviamente le questioni che riguardano direttamente le forze politiche che devono scegliere gli uomini per l'Europarlamento, per Strasburgo. E un'altra delle grandi discussioni che si fanno da Francesco Giubilei è quella che bisognerebbe mandare i migliori a Bruxelles e a Strasburgo. Cosa che, insomma, in passato, non mi pare, pensando un po' a tutte le forze politiche italiane, sia avvenuto. Questo, Andrea, è un tema molto importante perché in Italia abbiamo avuto, fino a qualche anno fa, spero che stiano un po' cambiando le cose, un certo provincialismo quando si parlava delle elezioni europee, in modo bipartisan, non riguarda uno schieramento o un altro. Ovvero, il seggio a Bruxelles o a Strasburgo veniva concepito sostanzialmente come il luogo in cui mandare a riposare magari ex politici di primo piano, di spicco, oppure persone politiche che non avevano trovato secondo file... Era una sorta di esercimento. Era una sorta di esercimento, che non avevano trovato spazio a livello nazionale. Senza comprendere, senza capire che piaccia o meno, magari a Zaccalone piace di più o a me piace di meno, però questo è un dato di fatto che ad oggi gran parte delle politiche vengono decise, più che dai parlamenti nazionali, purtroppo, aggiungo io, a Bruxelles. E lo abbiamo visto nell'ultima legislatura con le direttive sul Green e non solo, però quanto accade a Bruxelles sui regolamenti, sulle direttive, sulle leggi, poi deve essere recepito anche dagli singoli stati membri. E questo ha fatto sì che l'Italia talvolta non fosse presente in prima fila e con le prime file sui vari dossier, con anche dei casi kafkiani, a volte c'erano ero parlamentari e addirittura non parlavano inglese, cose abbastanza incredibili. E questo ha fatto però sì che gran parte dei dossier in cui l'Italia era necessario che fosse in prima linea, ma altri paesi europei invece li superavano. Un ultimo passaggio che riguarda anche il tema della legge elettorale, perché parlando con gran parte degli europarlamentari, gli europarlamentari ti raccontano come sostanzialmente ormai da vari mesi a questa parte, alcuni anche da un anno a questa parte, siano de facto in campagna elettorale, dovendo prendere le preferenze su dei collegi che sono dei collegi molto ampi e questo li distrae dall'attività di Bruxelles. Noi in Italia facciamo le cose al contrario, per cui abbiamo le preferenze sulle elezioni europee in cui gran parte dei paesi non ce l'hanno e forse andrebbero tolte, e invece alle politiche dove sarebbe forse necessario tornare alle preferenze perché vediamo i nominati, i contronominati anche con un abbassamento della qualità del Parlamento italiano, non abbiamo le preferenze. E con una disaffezione cosciente e con una disaffezione, esattamente. Quindi è proprio una cosa che andrebbe cambiata, andrebbero messe le preferenze a livello nazionale e andrebbero forse tolte a livello europeo. Allora, adesso devo sentire, sia il professor Passarelli sia Ginevra Pompiani, adesso ci arrivo, intanto voglio ripartire dal professor Passarelli. Stati Uniti d'Europa. Peraltro c'è anche, a proposito della discussione italiana, c'è Italia Viva e più Europa che si presenteranno con una lista che si chiamerà Stati Uniti d'Europa. Anzi, poi su questo chiederò una cosa a Mastella perché è stato in ballo a proposito di questa lista, ma glielo chiediamo dopo. Ma Stati Uniti d'Europa vuol dire cedere ulteriore sovranità o no? Così affrontiamo il toro per le corna. Devo chiedere il copyright a Renzi, a Bonino? Non lo so, veda un po' Lea, stia attento che con le cause giudiziarie con Renzi... Alla fine la perde la causa, la vince Einaudi, Luigi Einaudi. Eh sì, eh sì. E al di là delle battute di spirito, penso che questo sia un discorso che va al di là della contingenza. Quello ad esempio della difesa europea data nel 1954 quando fu la Francia a stoppare quel progetto cui De Gasperi teneva molto per dire che poi l'Italia non è vero che ha inviato in Parlamento europeo solo persone di seconda linea, di seconda scelta, pensiamo ad Altiero Spinelli. Quindi c'è una storia che va conosciuta, va approfondita e va tenuta in debita considerazione. Poi ci sono anche, ci sono stati ovviamente anche ministri che sono stati a Bruxelles e che non hanno mai partecipato alle riunioni. Quindi c'è un universo frastagliato. E questo però... Scusi se ti interrompo, ma siamo in buona compagnia perché noi tendiamo, abbiamo spesso, non essere esterofi, ma gli altri... Non è che poi le cose sono molto diverse in altri paesi? No, no. Forse un po' i francesi e i britannici sono un po' meglio, sono un po' più severi. I tedeschi no? Anche i tedeschi, certamente. E quindi questo dipende anche dalla cultura politica in senso lato. però per rimanere al tema della sovranità. È esattamente il tema. Cioè oggi si gioca una partita, l'8 e il 9 giugno, si gioca una partita tra chi crede all'Unione Europea e chi non ci crede. Quindi non è una questione di poter criticare, ad esempio, Ursula von der Leyen. Io penso che su alcune cose debba essere criticata o il singolo commissario. Ma qui si tratta di mettere in discussione il progetto europeo. E ci sono delle forze che per pudore e per, diciamo, ipocrisia, in questo senso, italica, definiamo sovraniste, ma in realtà vanno definite nazionaliste e di estrema destra, quali ad esempio Fratelli d'Italia e la Lega di Salvini, che, insomma, c'è una letteratura, diciamo, piramidale su questo mondiale e invece chi pensa a un'Europa che debba essere più integrata. Sono posizioni legittime ma questo è il tema, cioè chi pensa all'integrazione europea e chi invece pensa di tornare alle singole patrie. E questo il discrimine è molto netto. Poi all'interno, come veniva richiamato dal direttore poco fa, all'interno di questo schema ci sono delle variazioni che ricadono anche all'interno dei singoli campi di centrodestra e centrodestra. Non c'è dubbio. Ma l'asse principale è chi crede all'Unione Europea e chi non crede all'Unione Europea. Per chiudere su questo primo passaggio, lei pensi che ci sono due paesi oggi che hanno tanti, diciamo, ammiratori nel centrodestra e anche nel governo, praticamente, sostanzialmente, Polonia e Ungheria, che se facessero domande di entrare nell'Unione Europea oggi non rispetterebbero i criteri stabiliti dal trattato di Copenaghen e praticamente abbiamo visto che cosa succede nell'Ungheria di Orban, non soltanto con le scene vergognose per la povera Salis, ma proprio per l'attacco ai diritti e all'indipendenza della magistratura. Così detto Stato di diritto. Posso, e così vado a Ginevra Pompiani, chiederle però una cosa, perché lei ha fatto un quadro in maniera molto chiara, però qualcuno dice che si può cambiare l'Europa senza essere contro l'Europa. Certamente. Che cos'è? Un esercizio, come dire, di stile linguistico o c'è un fondo di verità? No, lo dico perché lei si riferiva nazionalisti, sovranisti, loro dicono questa Europa non ci piace, vogliamo un'Europa diversa. Ma se si critica il governo dell'Europa è un esercizio non solo legittimo ma anche auspicabile e che io, nel mio piccolo pratico, il problema è non mettere in discussione l'Unione Europea in quanto progetto diciamo federale, in quanto progetto di unità. Allora, immaginiamo che la Nigeria ha 230 milioni di abitanti, l'India sforna qualche centinaio di migliaia di ingegneri all'anno. Può in questo contesto l'Italia giocare un ruolo e difendere la nazione come pure spesso viene sottolineato? Io penso che il nazionalismo oltre a essere la guerra come diceva François Mitterrand il nazionalismo in questa fase è il principale nemico della patria perché non aiuta gli interessi nazionali se ne sono accorti in Gran Bretagna dove quelli che sono stati più penalizzati da Brexit sono i poveri pescatori della cornovaglia che non riescono più a vendere i loro prodotti quindi c'è una distorsione concettuale e una mistificazione tra l'attacco e la critica al governo dell'Europa al Parlamento alle sue istituzioni sacrosanto e al progetto che invece è alla sua base. Generala Pompiani le piace questa Europa? Per niente eh non avevo quasi dubbi non evidentemente per le ragioni della destra eh per che cosa non le piace? Non mi piace perché vuole fare la guerra e perché vuole fare la guerra per far contenta l'America quindi non mi piace il rapporto di sudditanza che prima aveva soltanto l'Italia e adesso ha tutta l'Europa e cioè l'Italia e l'Inghilterra e adesso ha tutta l'Europa nei confronti dell'America e dell'Anato questo non mi piace affatto penso che è un cordone non umbilicale che va tagliato è una corda è una catena che va tagliata eh a parte questo cioè no non a parte questo il punto cruciale di queste elezioni tutto quello che hanno detto finora è tutto per carità giustissimo ma per me per me non solo per me almeno per il 61% degli italiani è la parte guerra il problema il problema è la guerra la volontà occidentale di fare la guerra perché non sono putiniani tra i nati sempre dagli Stati Uniti non sono putiniani non sono putiniani detesto Putin molto prima che l'Italia ma nessuno come vede gliel'ha detto no 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 nessuno gliel'ha detto però in effetti la domanda è ma la guerra chi l'ha iniziata in Ucraina allora e dai esattamente la stessa cosa sì è vero ci sono 32 mila morti Gaza ma chi ha fatto il 7 ottobre è la stessa cosa sì l'ha iniziata Putin ma abbiamo fatto tutto abbiamo fatto l'America e la NATO ha fatto il possibile perché la facesse e adesso sta facendo il possibile dici che è cascato di un inganno perdoni mi lascia parlare e tanto sono l'unica a qualcuno che pensa così e stiamo facendo tutto il possibile perché Putin la continui ora io questo lo voglio dire oltre a candidarmi per pace terra e degnità che è un movimento pacifista perché la pace mi sta molto a cuore appartengo a un gruppo che si chiama Assemblea per la Pace che vuole fare delle azioni con tutti i progetti i movimenti possibili e noi abbiamo una prima azione che abbiamo appena lanciato che per ora ha 16 mila adesioni che è niente in confronto alle centinaia di migliaia che vogliamo però in pochi giorni diciamo le abbiamo avute questa risposta in Italia e questa questa proposta si chiama sciopero mondiale contro la guerra è un'utopia sì è una follia beh non più della follia della guerra è l'unica è l'unica idea che per assurda o folle o utopistica che sia è all'altezza dell'orrore della guerra penso che dobbiamo spendere tutte le nostre energia precisa partendo proprio da quello da cui lei è partita lei ha detto siamo succubi degli americani degli Stati Uniti se ovviamente è una domanda perché ci confrontiamo e sono belle anche le provocazioni forse intellettuali se l'Europa fosse stata un'Europa con la difesa comune e non doveva dipendere così tanto dagli Stati Uniti davanti a Putin di invasori che avrebbe fatto secondo lei questa Europa? la stessa cosa la stessa cosa penso che abbia fatto la stessa cosa non lo so allora non lo so non lo posso sapere no nessuno lo può sapere però era però però come dire bisogna per staccarsi veramente dalla sudditanza bisogna staccarsi dalla sudditanza intellettuale cioè bisogna smettere di credere alle palle che raccontano la Nato e gli Stati Uniti smettere di crederci leggere anche soltanto la stampa leggere il New World Times per esempio leggere leggere che è americano però esattamente esattamente per fortuna approfittare leggere Haaretz in tutte democrazie che non si conoscono dalle parti di Putin posso mettere un altro elemento no no finisca finisca non lo voglio no voglio dire certo approfittiamo che ci sono alcune di loro sono delle democrazie nella Russia nell'Ucraina lo sono sia chiaro ma l'America lo è ancora e l'Israele lo è ancora sono democrazie non c'è dubbio l'Ucraina non è una democrazia va bene ma non importa lo sono ancora perché non basta non basta votare il presidente anche Hitler è stato votato non basta questo per questa democrazia però approfittiamo di queste che sono ancora delle democrazie per leggere la stampa libera per esempio New York Times e per esempio Haaretz e sapere che cosa veramente sta succedendo Allora come sempre il confronto è bello proprio perché è su idee diverse su posizioni diverse aggiungo in parte ne stavamo parlando un ingrediente al nostro menù vi faccio sentire Giorgia Meloni come sapete è molto attiva sul fronte internazionale l'altro giorno è stata in Libano a trovare il contingente italiano ancora prima la settimana scorsa aveva partecipato al vertice europeo due appuntamenti segnati entrambi questi dai conflitti appunto dal discorso la questione sulla difesa comune europea poi nel vertice europeo in particolare si è parlato anche di altre questioni sentiamo La Meloni intanto buongiorno a tutti grazie grazie al generale Fontana grazie per questa accoglienza sì seduta l'Italia declina il suo impegno anche a livello bilaterale con la missione Mibil che sostiene e forma le forze di sicurezza libanesi che sono a loro volta essenziali per salvaguardare il quadro istituzionale di questa nazione era un lavoro importante ieri diventa un lavoro fondamentale oggi e quando c'è un incendio il rischio è sempre lo stesso che le fiamme volino troppo velocemente da un albero all'altro e che alla fine l'incendio non si riesca a domare siete il fossato la barriera di sabbia che aiuta a non far progredire l'incendio e rinunciate a tutto per costruire e garantire quella pace della quale in tanti soprattutto in questo momento si riempiono la bocca comodamente seduti dal divano di casa loro perché la pace non si costruisce con i buoni sentimenti e con le belle parole la pace è soprattutto deterrenza è impegno è sacrificio è molta soddisfazione da parte italiana per lo svolgimento di questo Consiglio europeo partendo dal tema che noi avevamo chiesto venisse inserito nella discussione del Consiglio che era particolarmente il tema relativo all'agricoltura particolarmente in tema di semplificazione della politica agricola comune particolarmente in tema di sostegno alle filiere di lotta alla concorrenza sleale per noi la partita importante era che ci fosse nelle conclusioni del Consiglio anche un riferimento alla proroga degli aiuti di Stato in campo agricolo e questo riferimento è entrato nelle conclusioni del Consiglio era una delle principali rivendicazioni che venivano poste anche dalle associazioni di categoria che abbiamo incontrato come ricorderete qualche settimana fa lo considero un importantissimo passo in avanti nel prossimo Consiglio ecco le questioni che sembrano quando si parla di guerra e conflitti secondari non lo sono affatto perché ricordiamo ancora abbiamo come dire gli occhi pieni delle proteste degli agricoltori in Italia hanno messo a ferro e fuoco la Bruxelles delle istituzioni ci sono state insomma delle retromarce abbastanza clamorose sul Green Deal tutto quello che riguarda la concorrenza con paesi che diciamo hanno una legislazione delle regole ben diverse dalle nostre quindi di tutto questo bisogna tener conto tanto per capirci è ancora ferma in Europa la questione che riguarda l'accordo tra Ita e Lufthansa cioè una cosa molto importante per il nostro paese vediamo se a giugno ci sarà una decisione allora voglio ripartire no Clemente Mastella ancora non è allora volevo ripartire da Mastella ancora abbiamo un problema col collegamento riparto Davide Giacalone ma quando ieri in questa bella intervista di Repubblica il premier polacco Tusk dice guardate che il rischio di guerra in Europa è reale bisogna arrivare al 2% di spese per la difesa dice molte altre cose insomma e dice anche cioè come dire mettiamocelo in testa è cambiata sono cambiate le cose e questo però a parte che non non è rassicurante cosa è un esercizio di pragmatismo fa bene Macron a dire quello che ha detto pur essendo contestato rispetto a quanto diceva anche Ginevra Pompiani poco fa che rappresenta una parte consistente dell'opinione pubblica che la pensa diversamente ma io penso che tutta l'opinione pubblica senza distinzione dell'intera Unione Europea sia perché salvaguardare la pace così come penso che tutte le persone civili siano contro la violenza se qualcuno mi aggredisce mi devo difendere però certo e la deterrenza che cos'è tradotto è che sono abbastanza forte sono abbastanza armato che ti devo far passare a te la voglia di aggredirmi questa è la deterrenza ma che ci sia la deciderio di mantenere la pace questo è evidente la posizione del capo del governo polacco come del resto del presidente della Repubblica francese sono abbastanza simili la differenza sta più nel linguaggio teniamo presente che Donald Tusk è un signore che è nato dall'altra parte della cortina di ferro lui è nato in un mondo che era dominato dalla Russia e ne conosce le condizioni di vita da paese suddito della Russia evidentemente non ha nessuna intenzione di tornarci né lui né gli altri polacchi scusa perché ieri cadeva il ventesimo anniversario dell'ingresso nella Nato di sette paesi dell'ex Europa comunista per esempio non cito Romania, Bulgaria, Slovacchia, Slovenia, Lituania, Estonia e e teniamo presente che l'ultimo paese dell'ex Europa dell'Est a essere entrato a Nato prima dell'invasione dell'Ucraina era stata la Polonia nel 1999 quando invece Putin nel 2002 era pratica di mare governo Berlusconi forse il più grande successo di politica estera del governo Berlusconi con la stretta di mano con anche oltre a Berlusconi di Bush figlio e l'ipotesi di entrare nella Nato è comunque la firma di un trattato di amicizia della Nato quindi tutti quelli che dicono l'ha fatto perché la Nato l'ha circondato o lo prendono per cretino o dicono una cretinata perché le date dicono il contrario il tema della guerra della pace si nega moltissimo all'altra questione il Green Deal l'agricoltura noi abbiamo un mercato interno nel quale cerchiamo di salvaguardare la convenienza del mercato e del consumatore qual è l'interesse di colui o con lei la quale vive in Sicilia anziché in Sardegna anziché in Cornovaglia è quello di trovare un aereo a costi un volo aereo a costi ragionevolmente contenuti il più basso possibile dal suo punto di vista per andare dove intende recarsi il suo interesse non è quello che la compagnia X diventi più grossa comprando la compagnia Y ma che il mercato funzioni queste sono le nostre regole rispetto all'inquinamento noi abbiamo qual è l'interesse collettivo l'interesse collettivo è che se andiamo verso tecnologie che sono verdi diciamo così meno consumo meno produzione di gas inquinanti di non rimanere indietro conservando il passato perché ti perdi il mercato questa è la logica interna ma attenzione noi tutti europei messi assieme siamo il 7% della popolazione globale in discesa la Germania che è il paese più popoloso è l'1 1.1 della popolazione globale produciamo noi che siamo il 7% il 25% della ricchezza globale che si produce ogni anno e consumiamo il 50% della spesa sociale scuole strade ospedali cioè noi siamo il posto più libero più ricco più sano più longevo in questo pianeta allora è evidente che tu in queste condizioni devi saper vivere non pensando di chiudere le porte di casa che non stanno in cielo in terra ma devi saper vivere in un equilibrio in quell'equilibrio devi saperti anche difendere pensare che il posto più ricco della terra dipenda per la difesa da qualcun altro dagli Stati Uniti d'America che nella Nato hanno naturalmente una posizione prevalente è un errore che si era visto già nel dopoguerra e che oggi è diventata una necessità dico soltanto un'ultima cosa però attenzione a non farci confondere le idee anche dentro casa nostra perché se il governo Beloni io leggo le parole del ministro Crosetto non ho motivo di dubitare che siano parole sincere se le parole del ministro Crosetto sono le parole del governo Beloni il governo Beloni si accinge a fare la scelta più europeista pensabile e possibile dopo la creazione della moneta unica cioè la difesa unica che comporta la politica estera unica è vero fino all'altro ieri sostenevano il contrario è verissimo poi dici bisogna vedere i fatti però alla prova dei fatti mi pare che si accingano a fare l'opposto ed è un bene per l'Italia allora pubblicità riparto da Mastella sperando visto che ci seguiva sperando che ci possa possa anche intervenire che l'audio adesso sia rimesso a posto e ripartiamo sempre a proposito di difesa europea come e soprattutto con quali risorse dopo la pubblicità il suo nome è Bond è Euro Bond l'idea di un'obbligazione garantita e condivisa da tutti i paesi dell'Unione non è nuova lo è la finalità finanziare magari aumentare le spese militari l'argomento della difesa comune che va da sé avrebbe costi enormi Antonio Tagliani parla apertamente di un esercito europeo sta scalando rapidamente l'agenda delle priorità il motivo è semplice la guerra in Ucraina vicina vicinissima è il ruolo meno incisivo degli Stati Uniti nell'affrontare gli oneri della nostra protezione le tensioni dal Medio Oriente all'Africa l'Europa ormai vive scomodamente nell'occhio di un ciclone geopolitico indebitarsi per armarsi oppure definire un fondo con la Banca Europea degli investimenti o spendere gli interessi sui beni della Banca Centrale Russa congelati nel continente no, troppo audace e rischioso o anche scorporare la spesa militare dal conteggio dei deficit dei paesi addirittura qualcuno pensa a una tassa su misura le idee non mancano questo perché l'argomento di un debito comune come si sa incontra l'opposizione di molti paesi come Germania Ungheria e Olanda la decisione è perciò rinviata a dopo le elezioni ma serve davvero tutto questo? i 27 stati dell'Unione insieme esprimono la terza spesa militare mondiale dopo Stati Uniti e Cina chi fa parte della Nato ha come obiettivo impiegare almeno il 2% del PIL nella difesa entro quest'anno al momento la media si attesta intorno all'1,5% comunque dipende ci sono potenze nucleari come la Francia che non fanno mistero di immaginare un continente più sicuro se è più armato filone di pensiero con discreto seguito anche da noi un dibattito così nel cuore della cultura occidentale induce qualche timore anche il solo parlarne fa venire strani pensieri se poi si ragiona di soldi il discorso si amplia nel caso chi comprerebbe queste obbligazioni che rendimento avrebbero chi ci guadagnerebbe non si può ignorare che certe lobby guardino con interesse la corsa al riarmo abbiamo ancora nelle orecchie il ritornello sulle sanzioni che avrebbero costretto Putin a capitolare subito oltre due anni dopo è chiaro che i conti erano sbagliati sbagliati? naturalmente c'è chi pensa che armarsi significa non solo difendersi ma anche rappresentare una maggiore ipotetica minaccia come dire se non hai strumenti non fai la guerra se li hai potrebbe andare diversamente indebitarsi per armarsi è legittimo ma vengono i brividi allora Clemente Mastella voglio chiedere a proposito questa parte di discussione che facevamo citando ancora che mi hanno colpito le parole di Donald Tusk Donald Tusk dice la prima volta dal 1945 dal 1945 che ci troviamo in una situazione del genere ma dobbiamo abituarci mentalmente all'arrivo di una nuova era e l'era prebellica sta diventando ogni giorno più evidente quanto è preoccupato Mastella? Beh è ugualmente preoccupato non ho gli elementi di valutazione che ha il presidente nuovo premier della Polonia però indubbiamente è così c'è una forma di ciclicità storica per uno come me che è stato professore di storia insomma si rende conto che questi aspetti esistono immaginiamo che la pace fosse eterna in Europa e l'ho immaginato anche la Merkel quando insomma l'Europa è soltanto andata nella direzione di fare accordi con la Russia senza rendersi conto di come la Russia si riforniva di armi e potenziare il proprio arsenale e alla fine siamo trovati in enorme difficoltà ora mi pare abbastanza evidente che se tu fai la difesa europea e gli eserciti europei comuni devi anche attrezzarti a questo punto di vista singolarmente come ascoltato il vostro servizio non è una cosa banale saremmo il terzo arsenale più forte dopo la Cina dopo gli Stati Uniti d'America questo non significa proiettarsi in una direzione di fare la guerra essendo cattolico ha molto la pace e credo che sia un elemento sostanziale dell'essere in comunità per se stessi e rispetto agli altri però evidentemente se ti arriva come ti arriva la Russia e fa quello che fa non puoi non difenderti insomma non voglio entrare nella discussione che è stata una teologia di tempi più o meno moderni sulla guerra giusta tutte le guerre non sono mai giuste però se ti capitano tra capo e collo devi difendere la tua comunità interviene devi predisporti a difenderti cioè questa ipotesi che un tempo non ci assillava oggi è preoccupante e quindi questo può capitare quindi bisogna decidersi su che fare e come farlo e così come ad esempio l'Europa deve anche decidere uno come Orban in Europa non può stare se occhieggia rispetto alla Russia e se andasse verso la Russia non è che possiamo immaginare un'Europa unita dove magari si vedono da quello che so io a volte ambasciatori fanno riunioni con l'ambasciatore dell'Ungheria e poi magari devono farne un altro prescindendo dall'ambasciatore dell'Ungheria che magari forse riferisce a stati diversi da quelli dei quali si parteci in alleanza e in comunità politica europea quindi su questo chi ci sta ci sta dopodiché evidentemente magari come è capitato alla Gran Bretagna decide diversamente anche in questo caso qua ma se stai devi fare una politica uguale poi stabilisci modalità con cui decidi due terzi in altro modo ma non puoi uno fermare tutto e bloccare tutto perché questo significa ammazzare tutti quanti gli altri quindi una cosa non è un'Europa decisionista è una decisione che tenga conto evidentemente del dato democratico della discussione democratica ma alla fine sul piano del delta finale un giudizio di merito che significa una proposta politica di merito che segue un dato programmatico e reale deve pure essere atteggiata e posta non solo come rende di valutazione ma come dato concreto passare da fotografia ideale a quella reale questo mi pare abbastanza evidente Sì Giubilei intanto dice Mastella in un club ci sono delle regole chi non le rispetta è fuori è riferito all'Ungheria e la domanda successiva se sei sintetico te la pongo è che c'è l'obiettivo di arrivare a un'Europa a 35 e se non si cambiano le regole adesso immagino che caos potrebbe essere l'Europa a 35 ma comunque l'Ungheria rispetta le regole dopodiché ha delle posizioni in politica estera differente come può essere un'esplice che sia come essendo uno stato uno stato sovrano l'Ungheria peraltro fa anche parte della Nato poi nella Nato abbiamo anche la Turchia se guardiamo quelle che sono le posizioni della Turchia sul tema dei diritti non solo credo che si aprirebbe un discorso molto ampio sul tema nei confronti dell'Ungheria c'è anche una procedura di infrazione per altre questioni ma questo non significa perché la procedura di infrazione anche noi in Italia abbiamo delle procedure di infrazione aperte questo non viene ricordato su temi diversi però le abbiamo poi sul tema dell'allargamento ora noi stiamo come Unione Europea discutendo il tema dell'allargamento lo facciamo nei confronti dell'Ucraina lo facciamo nei confronti dei paesi dei Balcani lo facciamo nei confronti della Moldavia io poi non so sinceramente una volta che si fanno questo allargamento come riusciamo a fare rispettare determinati criteri mi viene in mente la direttiva Casa Green e voglio vedere come si fa a rispettare la direttiva ma tu sei pessimista o critico sull'allargamento l'allargamento in linea teorica può anche essere una cosa corretta in termini geopolitici per dire cerchiamo di allargare determinati paesi dopodiché serve anche però una serietà perché ora stiamo discutendo l'allargamento all'Ucraina e se andiamo a parlare con gli albanesi o con i macedoni del nord loro giustamente con i macedoni ci dicono noi stiamo aspettando di entrare in Unione Europea da tanti anni e questo allargamento non è stato effettuato tutto il discorso geopolitico che noi stiamo facendo sull'Europa in questa mattina in realtà noi come europei so che molti non saranno d'accordo dobbiamo guardare con grande speranza alle elezioni americane e dobbiamo sperare che vinca Donald Trump detto molto onestamente perché una vittoria di Donald Trump negli Stati Uniti significherebbe da un punto di vista di politica estera anzitutto il fatto che noi veniamo messi di fronte alle nostre responsabilità e raggiungiamo il 2% di spesa militare su cui ci siamo impegnati e non è serio il fatto che noi non abbiamo raggiunto il 2% e hanno ragione i repubblicani americani quando ci dicono però voi avete preso un impegno non lo state rispettando dopodiché altro tema se noi guardiamo la politica estera di Donald Trump ci accorgiamo che sul tema dell'Ucraina probabilmente lui non ci sarebbe stata la guerra in Ucraina e penso che sia l'unico che possa risolvere davvero la guerra in Ucraina perché al netto di quello che diciamo sull'Europa l'attore che deciderà realmente la fine della guerra in Ucraina sono gli Stati Uniti e forse anche la Cina forse forse anche la Cina però ancora di più gli Stati Uniti nel momento in cui si siederanno a tavolino poi se noi guardiamo anche quel che riguarda la situazione in Medio Oriente oggi ieri Biden fa una dichiarazione molto importante nei confronti di Israele e dice altri paesi sono pronti a riconoscere pienamente lo Stato di Israele esatto che sono i patti di Abramo che erano stati portati avanti da Donald Trump così come Donald Trump aveva detto che gli utili erano organizzazioni terroristiche quindi penso che lo scenario di escalation a cui stiamo andando incontro possa essere risolto dall'elezione di Trump che in realtà nel suo mandato non ha fatto guerra suona il gong dopo devo aggiungere una cosa devo chiedere molte cose rispetto a quanto dicevi al professor Passarelli ma è arrivato Valo Sottocorona weekend di Pasqua e cerca di comportarti bene insomma non sono io che mi comporto male allora si riaffaccia il peggioramento era atteso più o meno per oggi e si riaffaccia in queste zone vedete Piemonte Valle d'Aosta Alta Alta Lombardia sembra che sia localizzato perché sulla Francia per esempio al momento non c'è non c'è molto queste zone di precipitazione intense sono soprattutto alpine e prealpine però qualche precipitazione moderata il colore blu si estende verso la Liguria l'Alta Toscana e poi anche nella parte centrale della pianura padana centro e sud più che qualche nuvola non c'è però questo è l'inizio del peggioramento vero e proprio quello più marcato che ci sarà nella giornata di domani perché infatti vedete questi fenomeni molto intensi quindi oggi in qualche zona comincia a peggiorare poi Alta Toscana Liguria tutte le zone della Costa Azzurra vedete e poi ancora Piemonte Valle d'Aosta Lombardia Trentino Veneto nella parte più verso le montagne ripeto alpina prealpina fra l'altro sulle Alpi nevica intorno ai 1500-1600 metri per avere un'idea le zone di pianura questa zona in verde vedete che parte dal Piemonte e poi si allarga anche verso la parte orientale come se in pianura in realtà insomma di fenomeni ce ne fossero pochi appena arrivano i rilievi diventano piuttosto forti sempre solo piccole incertezze sul resto del centro e al sud nella giornata di lunedì questo peggioramento comincia a spostarsi libera in parte le zone di nord-ovest si presenta ancora marcato sulla parte centrale orientale vedete ancora Liguria e Alta Toscana e qualche pioggia moderata sull'appennino centrale arriva l'estremo sud è l'unica zona in cui insomma non ci sono stravolgimenti qui qualche cosa sicuramente si paga tra virgolette quindi prendetela con filosofia perché tanto il concetto è che la Pasqua è una festa mobile Pasquetta lo stesso ma per mobile che sia viene sempre impallinata facciamoci una ragione grazie auguri a Paolo Sottocorona ci rivediamo tanto lunedì pubblicità Allora Ginevra Bompiani cos'era rimasto in sospeso che ho visto che voleva aggiungere è rimasto in sospeso semplicemente che non ho detto che lo sciopero mondiale contro la guerra potrei parlarne per ore ma certamente non qui e ora però chi è interessato e spero che credo che molti lo siano può cliccare il nostro nuovo sito che si chiama assembleaperlapace.org trovare in varie lingue per ora solo europee ma poi saranno anche mondiali il nostro appello e aderire e poi solo ricordare mettere a fronte di Tusk del discorso di Tusk quello di Sara Wagenecht la nuova star tedesca che ha detto a tutti i paesi i capi dei paesi i leader dei paesi europei ma siete diventati tutti pazzi perché la guerra è una pazzia perché anche se la vincessimo e potremmo anche vincere perché abbiamo più armi della Russia saremmo distrutti lo stesso non ci saremmo più lo stesso Professor Passarelli per venire un po' ai temi che si dicevano prima l'8 e il 9 giugno sappiamo tra chi è la sfida secondo lei prevarranno la voglio leggere dal suo punto di vista i riformisti e quali sono le regole che bisogna cambiare subito in Europa lei in linea con le previsioni meteo vorrebbe una previsione elettorale da cui per diontologia mi sottraggo lo scenario qual è lo scenario è quello anche in virtù della grandezza dei paesi e dei sistemi elettorali che gli equilibri rimarranno simili cioè il blocco diciamo socialista e popolare rimarrà maggioritario e quindi con buona pace dei nazionalisti italiani non ci sarà questo espluà che distruggerà l'Unione Europea dall'interno per intenderci il gruppo di estrema destra identità e democrazia di cui fa parte Salvini e la Lega il ministro Salvini quelle lì rimarranno marginali e i conservatori della Meloni? i conservatori potrebbero diciamo crescere in virtù del fatto che probabilmente rispetto alle scorse europee cresceranno in Italia ma è proprio questo il punto insisto cioè tutto ciò di cui noi stiamo discutendo è a valle della definizione del tema cioè il tema è nazione tra l'altro credo che la presidentessa del consiglio dei ministri in Libano abbia fatto una semigaff diplomatica dicendo che Libano è una nazione è affezionata a questo concetto di nazione non riesce a dire repubblica ma è raggiungendo antifascista dice nazione tra l'altro il Libano sapendo che ci sono più nazioni quindi per dire che il concetto di nazione diventa molto scivoloso allora noi sappiamo che il nazionalismo certamente gli Stati Uniti sono nazionalisti e lo sono da sempre la politica di disimpegno di disengagement come dicono quelli bravi è iniziata già con Bill Clinton democratico è continuata anche con Barack Obama intendiamoci quindi non è che è arrivato Donald Trump a dire attenzione armatevi di più ma c'è una differenza mi lasci un minuto dottor Pancani c'è una differenza importante che Donald Trump non propone soltanto una differenza di vedute tra i rapporti transatlantici ma Donald Trump ha detto caro Putin fai il lavoro che devi fare ha detto che sostanzialmente che Adolf Hitler ha fatto delle cose buone quindi qua non siamo di fronte a Ronald Reagan qui siamo di fronte a uno che ha ordito un colpo di Stato il 6 giugno mi lasci finire al congresso ho parlato meno di tutti abbia pazienza non è che voglio stascitarla è sempre quello ho capito ho parlato un minuto avete parlato tutti meno meno degli altri le assicuro che poi interventi di un minuto rispetto a quelli di 7 minuti però va bene così allora il punto è che l'Europa avere una politica estera e di difesa comune non significa voler la guerra significa essere in grado di ragionare di avere più risorse proprio per il sociale perché si possono fare anche delle economie di scala e in questo senso l'Europa sarebbe più indipendente rispetto alla volubilità dei leader nazionali e però scusi se in Italia portiamo avanti la politica nazionalista anziché discutere delle riforme dei trattati discutiamo della riforma dell'autonomia differenziata che cos'è dell'autonomia differenziata è una riproposizione del nazionalismo nord-sud adesso vorrei un'altra puntata adesso una battuta di replica da Giubilei la replica sono i fatti nel momento adesso se l'autonomia è stato detto di tutto contro di tutto sono i fatti nel momento in cui Trump ha governato non ci sono state guerre era anche però un'epoca diversa è un dato di fatto sul tema gli Stati Uniti in quella fase non hanno fatto guerra dopo di che il nazionalismo che viene citato in vari modi sul tema dell'autonomia e non solo il problema non è il nazionalismo il problema sono due modelli di Europa diversi uno è una visione che accentra i più poteri da Bruxelles che sono i cosiddetti Stati Uniti d'Europa un altro modello è un modello confederale d'Europa che è l'Europa delle nazioni cioè determinati poteri devono essere in capo a Bruxelles e poi si deve lasciare secondo il principio di sussidiarietà agli Stati nazionali una maggiore indipendenza partendo dal presupposto che le politiche che valgono per un portoghese non sono uguali che quelle che valgono per uno svedese le politiche che valgono per un portoghese non sono uguali qui è la comprensione del discorso per vedere quali sono le materie di cui sui migranti ciascuna nazione farà il proprio interesse e quindi il nazionalismo tanto sbandierato vedrà la difesa degli interessi nazionali e quindi migranti nei paesi di Visegrad non arriveranno e li accoglieremo tutti noi allora chiudo con una nota politica forse di colore ma Stella ma lei si candiderà con Renzi? io ho sempre detto che faccio il sindaco e mi fa piacere amo molto fare il sindaco non sono candidato ho fatto un'intesa con Renzi sul piano politico e in termini generali c'è una richiesta a partire di candidare a San Riccio Leonardo ma dipenderà da lei non dipenderà certo da me però voglio anche voglio anche dire non è l'unica moglie che sta poi in Parlamento perché ogni volta si immagina non ci trovo niente di male peraltro vedo che c'è una proposizione un po' scorretta da parte dell'ex sindaco di Parma dicendo ah ma Stella eccetera voglio ricordare che quando lui non era con i radicali ho fatto con i radicali una cosa che ha avuto diciamo il consenso forti radicali di Pannella della Bonino che è l'indulto che non si faceva in Italia da anni e anni quindi per dire Pizzarotti insomma può dare lezioni agli altri poi abbiamo avuto lui problemi giudiziari problemi giudiziari i miei sono stati in ostilità da parte di un gruppo di magistrati felicemente conclusi anche questi dopo undici anni di tristezza e di tragedia e ricordo Zucchedda dopo trentatré anni che gli danno venticinque mila euro per dire insomma qual è stato a morte della tristezza della quindi che Pizzarotti possa associare me con altri se sei un po' tranquillo e facessi il moralista con se stesso anziché con me è stato chiarissimo e anche europeo sono stato dieci anni al permette di noi quindi io non vado ho già dato diciamo dice Mastella faccio volentieri il sindaco e oggi è una delle più belle professioni politiche che esistano grazie anche delle più difficili buona Pasqua a tutti grazie e auguri a Clemente Mastella grazie a Francesco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.